Il calcio in aiuto delle popolazioni terremotate è stato consegnato al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi un assegno con il ricavato delle donazioni raccolte dall'Associazione Calcio e Solidarietà, giornalisti RAI, dall'Agenzia del Demanio e dei Vigili del Fuoco che si sono sfidati in un triangolare presso la struttura del CONI all'acqua cetosa di Roma.